La condivisione delle collezioni d'arte di proprietà della banca è uno dei pilastri del progetto Cultura d'Intesa San Paolo. È evidente che la sinergia e il lavoro con la Fondazione Bruschi e con questa Casa delle Meraviglie si concretizza di mese in mese, di anno in anno. Fa piacere registrare come a distanza di pochi mesi la condivisione e il riallestimento di opere, gli interventi sull'infrastruttura della casa e le attività condivise sia un elemento di profonda soddisfazione per l'Intesa San Paolo e per la Fondazione Bruschi. Da Pontormo a Fattori sono 11 i dipinti che sono andati ad arricchire il nuovo allestimento della Casa Museo di Ivan Bruschi e che arrivano dalla collezione di Intesa San Paolo. Comodato permanente, quindi questo è importante, quindi rimarranno qui con noi e questo appunto grazie al nostro amministratore, grazie anche al nostro curatore che ha allestito un nuovo percorso musicale appunto valorizzando sia anche il percorso ma anche l'intera opera architettonica della nostra casa. Dai quadri di Pontormo, di Alessandro Allori fino ad arrivare al guado di Giovanni Fattori, cercando proprio di intendere come sia possibile introdurre delle novità in un tessuto già di per sé stesso molto ricco e significativo all'interno non soltanto della storia del collezionismo ma anche nella storia dell'arte attraverso appunto una serie di capolavori che vengono proposti per la prima volta qui ad Arezzo e che qui rimarranno a testimonianza di un virtuoso rapporto con Intesa San Paolo che in qualche modo tutela d'ora in avanti la ricchezza e come dire la cultura di Casa Bruschi.